Se l'aglio ti rimane indigesto ma ti piace, puoi provare a fare l'olio appassito all'aglio. Basta prendere una ciotolina di vetro, di ceramica, che possa andare nel microonde, metterci l'olio e due begli spicchi d'aglio, senza tagliarli, schiacciarli, ok, solamente spellati. Poi si copre con un piattino, questo per evitare gli schizzi nel microonde, e si mette nel microonde. 30 secondi alla massima potenza. Il microonde accelera le particelle di acqua contenute nell'aglio, che evaporano e si ricondensano nell'olio. Ecco perché viene il sapore dell'aglio nell'olio. Però non rimane indigesto, perché lo spicchio non viene mai schiacciato, tritato o tagliato, e quindi non entrano in gioco gli enzimi. Questo olio, se volete conservarlo, basta togliere gli spicchi, lasciarlo raffreddare, metterlo in un barattolino e conservarlo nel frigorifero. Il meglio lo dà però su una pietanza calda e messo proprio all'ultimo. Eccolo che è pronto. Il profumo non ve lo posso far sentire. Eccolo qua. Eccolo qua.